Buongiorno ragazzoli e ragazzole, bene nuova serie di video, spero vivamente di riuscire a portarla fino in fondo perché ho già un po' il mio elenchino dei vari video che voglio fare per appunto questa nuova serie come potete vedere si chiama libri in valigia, ovvero sono romanzi, per adesso soltanto romanzi la sezione saggi, vedremo se riuscirò a imbastire anche quella, che voglio consigliarvi per l'estate da portare in valigia saranno più o meno 5 volumi a video, ho deciso 5 perché mi è sembrato un numero intermedio che poteva andare bene 3 un po' troppo pochi, 5 invece mi sembra giusto, di più effettivamente sono tanti non ve li dovete portare chiaramente tutti i 5, magari non vi interesserà nessuno dei 5 però la cosa funziona così siccome a volte ci si domanda quale romanzo mi porto, anche se so che molti di voi in realtà se ne portano più di uno per questo ho detto 5 perché uno forse non sarebbe bastato e allora ho detto proviamo a imbastire questa serie di video, divisi chiaramente per genere così almeno vi è più facile pescare in base al genere, in cui vi consiglio 5 libri questi 5 libri non sono necessariamente i miei 5 libri preferiti del genere giallo, del genere horror del genere romanzo storico, sono 5 libri che io ho cercato più o meno di ponderare nel senso di dire, si trovano in dedizione economica per cui non pesano 8 quintali hanno una mole più o meno varia, cioè ce n'è uno un po' più grosso e uno un po' più piccolo e si trovano, a parte uno che infatti ve lo cito alla fine che sarebbe il sesto che io volevo consigliarvelo tantissimo, di cui forse non vi ho mai parlato ma ahimè ho provato a controllare, effettivamente non si trova, però magari qualcuno di voi o ce l'ha in casa o una botta di culo straordinaria la trova in qualche libraccio, per cui io comunque ve lo faccio vedere questo libro, alcuni me li avete già sentiti nominare, altri magari no, sono libri un po' per tutti i gusti diciamo, anche all'interno dei vari sottogeni, nel senso io vi consiglio un giallo ma vi posso consigliare vari tipi di giallo, che vada al giallo magari più classico al thriller, al giallo un po' più splatter vediamo poi mano a mano nei vari video, comunque adesso ve li racconto un po', cerco di fare dei video un po' più stringati così almeno rapido, che state facendo la valigia dovete decidere nel giro di due secondi netti per cui cercherò di essere anche abbastanza svelta, cercherò, purtroppo, non so mai alla fine del video quanto durerà il video bene, iniziamo con i romanzi storici, io ho pescato 5 romanzi storici che potrebbero piacervi che potrete portarvi in valigia, se andate in vacanza, io non l'ho detto, chiaramente magari qualcuno di voi in vacanza non ci va per, come dire, mancanza di denaro, ve li potete leggere tranquillamente anche a casa o anche in quel luogo a meno che è la piscina, che io chiaramente non conosco perché come potete vedere dal mio colorito io la piscina non la conosco e preferisco non conoscerla perché sennò mi stione e basta o anche tranquillamente sul vostro balcone, nella vostra cameretta, sotto l'aria condizionata, vicino al ventilatore io ovviamente lo faccio per, cioè lo faccio, l'ho pensata per chi si deve portare i libri in valigia ma ragazzi questa cosa vale per tutto l'anno, più leggete meglio è iniziamo dai romanzi storici allora, ne ho un po', il primo che vi consiglio e di cui voglio parlarvi è un romanzo che forse vi ho già citato forse no, ma complice al fatto che dopo mille mila anni, che io l'ho letto, andavo ancora all'università tra l'altro 2008, alè l'ho lessi, finalmente fanno una serie televisiva, questa cosa un po' del miracoloso inizia, se non mi ricordo male, ad agosto vi parlo della straniera di Diana Gabaldon questo romanzo è un po' lato chiamarlo romanzo storico, perché in realtà è sì ambientato in un'epoca storica ma ha anche un qualcosa di un po' fantasy, no? perché comunque la spinta che dà via poi al romanzo effettivamente non ha niente dello storico, è proprio fantasy però il fatto che sia ambientato la prima parte nel 1945 nel dopoguerra in Scozia e il fatto che comunque tutta la seconda parte sia invece ambientata nella Scozia settecentesca fa in modo che io lo chiami comunque romanzo storico alla fine la straniera è un libro che io ho letto durante gli esami quando studiavo all'università e vi assicuro che mentre avevo i libri e stavo studiando per gli esami io ce l'avevo appoggiato lì e continuavo a guardarlo che io ce l'ho andata avanti, l'ho comprato non perché io sia una grande amante dei romanzi sentimentali anche se questo è segnalato come romanzo storico sentimentale c'è scritto qua sotto ma perché tutti lo nominavano e tutti ne parlavano e dicevo boh, o è un gigantesco Harmony perché è veramente gigantesco e io lo abbandonerò dopo 200 pagine e mi romperò le scatole e vabbè ma all'epoca mi ricordo facevano gli sconti e i te ad estate li vendevano tipo a 5 euro 90 e ho detto vabbè dai per 5 euro 90 si può anche fare, si può anche comprare allora ha un che ogni tanto dell'Harmony lasciatemelo dire nel senso che sì, c'è comunque una storia d'amore all'interno ci sono un bel po' di scene di sesso che dopo un po' vi possono anche stancare però la cosa che mi è piaciuta veramente tanto è che comunque vi racconta la Scozia del Settecento vi racconta tutta la questione dei clan vi racconta di battaglie del fatto che comunque all'epoca gli scozzesi combattevano contro gli inglesi vi racconta di tutti questi intrighi di tutte queste menate all'interno dei clan è questo forse la cosa che mi è piaciuta di più cioè se voi andate al di là del fatto che ci sia questa storia d'amore che dopo un po' diventa un po' la Harmony all'inizio no, parte bene ma dopo si diventa un po' la Harmony non troppo comunque non come gli Harmony veri che io qualcuno l'ho letto e di Romanzi storici che si spacciano per Romanzi storici e dopo sono Harmony l'ho letto e vi assicuro non è questo però nonostante tutto ahimè è un romanzo che vi assicuro io piantavo lì di studiare per andare avanti a leggere finché non ci ho visto fondo questo libro non sono riuscita a ricominciare a studiare per gli esami che dovevo dare è veramente un romanzo che vi acchiappa tantissimo ho scritto benissimo è grosso per cui se ve lo volete portare in maligia avete tanto da leggere anche se in realtà penso che lo finirete abbastanza presto se vi prende e vi assicuro che vi prende è un bel libro anche da rileggere è autoconclusivo cioè potete leggere soltanto questo La straniera in realtà è una saga e sono tanti libri io ho smesso dopo un po' perché mi sono rotta le scatole perché diventa veramente barboso il primo libro e se vogliamo anche i due seguiti sono quelli che mi sono piaciuti di più e quelli che vale di più la pena leggere questo io ve lo consiglio tantissimo soprattutto se siete femminucce perché vabbè il personaggio di Jamie Fraser penso che abbia fatto battere il cuore a chiunque a chiunque abbia letto questo libro e ne vale veramente la pena Miniserie inizierà per Stars per cui volendo poi potrete anche vederla voi non avete dovuto attendere quella bellezza di sei anni per dovervi vedere il Jamie Fraser incarnato in carne e ossa in televisione primo libro consigliato secondo libro che vi consiglio che devo aver letto sempre d'estate adesso ve lo dico perché io scrivo le date esatto questo l'ho letto l'anno dopo è questo alla corte dei Borgia di Gian Carlo Driggis Carlo Driggis non so come si pronuncia però fa bene è uguale anche questo era dito dalla TEA e se non mi ricordo male una volta la TEA faceva gli sconti d'estate per cui magari lo farò anche quest'estate questo qui vabbè io all'epoca l'ho pagato 9 euro però non ve lo so neanche dire questo qua costa in teoria 9,80 però non so cosa costi adesso alla corte dei Borgia utilizza il solito espediente del prendere un personaggio esterno un personaggio che non è inventato in questo caso perché stiamo parlando di Sancia con lei che si sposa il fratellino piccolo dei Borgia il Goffredo e inserirla appunto nella storia e farle raccontare tutta la storia dal suo punto di vista adesso per quanto magari non sia storicamente esattissimo questo libro vi assicuro che tra quelli che ho letto ambientati durante l'epoca dei Borgia è uno di quelli che mi è piaciuto di più vuoi che è scritto veramente molto bene vuoi che è molto scorrevole vuoi che comunque in un certo senso per me riprenda abbastanza bene quelli che mi davano l'idea fossero i caratteri effettivamente dei vari dei vari Borgia vuoi tutto questo mix di cose a me alla fine questo libro è piaciuto me lo sono proprio goduto l'ho anche prestato ed è piaciuto praticamente tutti quelli che l'ha letto per cui è un romanzo chiaramente che vi racconta tutti gli intrighi di Borgia vi racconta tutte le varie menate della corte di Borgia forse non mi ha fatto molto impazzire il personaggio di Sancia però succede sempre in questi libri che il personaggio che narra è sempre il personaggio più debole non so se è una cosa voluta dall'autore e dall'autrice però ahimè forse è per far risaltare di più gli altri quelli che sono i personaggi effettivamente esistiti però sì loro anche se sono stronzi anche se sono bastardi comunque alla fine risaltano sempre di più è sempre un romanzo di intrigo è un romanzo storico forse vi viene meno raccontata comunque la parte storica rispetto ad altri libri di cui adesso vi vado a parlare però comunque come lettura forse un po' più leggera rispetto alla straniera se vogliamo perché io cioè dal punto di vista storico forse vi consiglio di più la straniera perché è più approfondito questo invece è un pochino più light più leggero più una letturina così veloce veloce se avete se siete in spiaggia non ci avete voglia capito di farvi duemila pare mentale a dire oddio sarà giusta questa cosa aspetta prendendo il telefono vado a controllare così se volete una lettura abbastanza leggera scorrevoli io questo ve lo consiglio comunque a me era piaciuto molto prossima lettura sempre ambientato più o meno nel periodo dei Borgia tra l'altro è questo che questo non penso di avervelo mai fatto vedere che è la duchessa di Milano di Michael Emmys anche questo è della tega tra l'altro però non so cosa costa perché mi sa che me l'avevano regalato ops questo romanzo è ambientato non a Roma ma bensì alla corte di Milano i protagonisti di questo romanzo sono ovviamente Beatrice d'Este Ludovico il Moro Isabella d'Aragona Leonardo da Vinci e tutti Galeazzo Sforza sono tutti i personaggi chiaramente della corte di Milano ora io questo libro li iniziai a leggere quando ancora non ero una grandissima fan dei romanzi storici li leggevo però non è che sbarellavo e non ero non avevo ancora questa grandissima fissazione per la storia ha iniziato a venirmi leggendo comunque questo libro e alcuni altri libri che ho letto appunto durante il 2009 anche se questo l'ho comprato dopo perché mi sa che l'avevo letto prima l'avevo letto in biblioteca Michael Emmys è bravissimo perché non solo vi descrive i personaggi perfettamente riesce a renderli credibili dei personaggi comunque storici esistiti veramente e riesce a renderli a suo modo tutti quanti simpatici e vi assicuro ce ne sono veramente tanti di personaggi e comunque lui ve li restituisce tutti benissimo nel senso che non è che ne tralascia uno per descrivervi meglio l'altro è che dice ok Beatrice d'Esta alla fine facciamo che è più la protagonista e allora vi descrivo meglio lei lasciamo perdere per esempio Isabella o lasciamo perdere per esempio gli uomini tipo Ludovico al Moro lasciamo perdere Cecilia Gallerani che era l'amante di Ludovico al Moro no in ogni caso anche se sono personaggi che compaiono veramente molto poco durante il corso del romanzo lui cerca comunque anche in poche righe di restituirveli perfettamente di farveli amare di farveli piacere o di farveli odiare comunque ma in ogni caso vi rimangono impressi cioè riuscite comunque dopo un po' a come dire a riconoscerli tutti quanti non è che dice ma chi cacchio è questo qua che è appena comparso o magari lo riconoscete soltanto perché sapete il nome perché comunque è un personaggio storico e anche famoso è un romanzo molto fedele alla storia racconta in dettaglio comunque qual era la storia dell'epoca non è nonostante non sia comunque anzi un romanzo gigantesco come potete vedere è molto denso di informazioni di notizie è ben raccontato ben narrato scorrevole vi farà comunque innamorare vi farà scoprire anche la storia dell'epoca nel caso magari non siate ferratissimi diciamo della storia di Ludovico il Moro e di tutta la sua corte è una storia comunque di intrighi chiaramente perché all'epoca voi sapete ce n'erano ed è una cosa che io non capisco mai quando nei romanzi storici esagerano e ce ne infilano ancora di più cioè già all'epoca comunque c'erano intrighi e gente che si ammazzava tra di loro così a buttare cioè non c'è necessità che tu te le inventi perché tanto ce n'erano già da sole di queste cose già ne capitavano senza bisogno di aggiungere questo è un romanzo che vi consiglio tantissimo al di là del fatto che ve lo potete vogliate portare in vacanza o meno è veramente uno dei romanzi storici migliori che ho mai letto per cui ne vale assolutamente la pena prossimo un romanzo di cui mi avete sentito parlare già altre volte è questo che è La mappa del tempo di Felix J. Palma anche questo mi sa che comprai più o meno in estate tra l'altro a maggio del 2012 per cui un paio d'anni fa e penso di avervele parlato anche in un video forse facevo già video il 2012 vabbè non mi ricordo però sono abbastanza convinta perché mi ricordo che lo nominò la Bietolina e io fu subito a comprarlo perché c'erano degli sconti in libreria e questo qui l'ho trovato comunque adesso è uscito anche in seguito ma il primo è quello che ne vale la pena più di tutti anche questo in realtà usa qualche spediente un po' fantasy per cui non è proprio un romanzo storico a 360 gradi è ambientato durante la Londra Vittoriana è molto bello perché vi accompagna nella Londra Vittoriana c'è questa voce narrante che vi accompagna un po' come succedeva comunque in alcuni romanzi appunto dell'epoca è scritto come se fosse un romanzo dell'epoca per cui se vi piacciono i classici diciamo dell'età vittoriana è sicuramente roba vostra compaiono alcuni personaggi famosi dell'epoca vittoriana come voi sapete forse già ve lo dissi uno dei personaggi più amati uno degli scrittori più amati da Felix J. Palma Herbert George Wells per cui lui compare diciamo uno dei personaggi che lega appunto le tre storie compare anche Jack lo squartatore compare Brian Stoker insomma accompagnano tantissimi personaggi dell'epoca è ambientato poi in Inghilterra per cui se amate l'Inghilterra vittoriana è vostro è un romanzo forse meno scorrevole rispetto agli altri che vi ho detto forse proprio per questa cosa del fatto che c'è questa voce che vi accompagna e soprattutto perché ci sono tantissime digressioni succede appunto come vi dicevo riprendendo i romanzi dell'epoca ahimè ogni tanto l'autore si perde e vi dice lasciamo questo personaggio da parte e parliamo di quest'altro e vi fa tipo venti pagine a parlarvi di questo personaggio tipo di Wells appena lo introduce per cui vi abbandona diciamo la storia principale prende una stradina secondaria e vi racconta di quella stradina secondaria poi però torna sulla strada principale e finisce di raccontarvi la storia bisogna avere pazienza dipende a voi cioè se piace questa cosa ecco però a mio parere è un romanzo bellissimo che vale la pena di essere letto a me queste digressioni non sono dispiaciute forse perché io amo la storia dell'epoca e amo l'Inghilterra vittoriana di conseguenza mi piace quando mi si racconta di un particolare personaggio dell'Inghilterra vittoriana o quando mi si racconta di uno scorcio di Londra comunque a me non dispiace perciò sì ha un libro che va letto forse più lentamente rispetto a questi altri questi altri tre libri che vi ho consigliato sono ricchi di intrighi per cui voi volete sapere quello che succede leggete molto più alla svelta forse questo è un libro più da prendere con calma per cui magari se andate in montagna forse perché la montagna mi dà l'idea un pochino più di calma poi dipende uno come se la vive la montagna però vi mettete lì sul divano fuori al frescolino all'aria boom ve lo godete con calma questo libro per me ci sta tutto in montagna anzi così quasi me lo porto quando vado in montagna stavo ripensando se non avessi altri chilometri di libri da leggere comunque questo questo forse è più consigliato per la montagna assolutamente prossimo libro anche questo io vi dirò per la montagna questo è un sempreverde è un sempreverde che forse alcuni di voi hanno già letto forse anzi buona parte di voi forse penso che abbiano già letto sto continuando a dire forse perché è un libro talmente famoso che è impossibile non averlo letto però se c'è qualcuno di voi che ancora non l'ha letto o forse che succede alcuni di voi l'hanno letto mille miliardi di anni fa e vogliono rileggerlo questa è l'occasione perché anche la Penny vi dice rileggetelo ed è I pilastri della terra di Ken Follett io ce l'ho in questa non tanto come da versione che è rilegata tra l'altro anche questa è vecchia come il mondo adesso lo vendono anche in versione economica che più o meno costa come la rilegata per cui io vi farei due conti alla fine comunque comprerei la versione rilegata perché proprio per spendere 5 euro di più tanto vale che li spendete e vi comprate l'edizione più bella I pilastri della terra di Ken Follett per me è un pilastro del romanzo storico che se ne dica che non l'ha scritto Ken Follett ma qui è ma io non sono una grandissima esperta vi dirò del periodo storico di cui appunto scrive Ken Follett per cui se lui ci ha infilato dei grandissimi errori o delle magagne storiche gigantesche sinceramente ve lo dico proprio ammetto la mia ignoranza non lo so dovrei chiedere alla Manu perché lei è più esperta di me in queste cose nel caso comunque se dopo mi scrive sotto al video eventualmente leggetevi il suo commento in cui mi dirà non capisci un tubo è pieno di errori storici però in realtà no perché io so che questo è il suo romanzo preferito per cui cioè se fosse stato pieno di errori storici probabilmente non sarebbe stato il suo romanzo preferito visto che lei è una fissata della storia parliamo dell'Inghilterra del 1100 se non mi ricordo male più o meno in quel periodo lì abbraccia più generazioni di personaggi per cui si parte con dei personaggi dopo si arriva ai figli e questa cosa è straordinaria il fatto che comunque lui riesce a farci affezionare a tutti quanti i personaggi e ce ne sono veramente tantissimi e ce ne sono per tutti i gusti per cui a uno almeno riuscirete ad affezionarvi e riesce a dipingere dei cattivi veramente cattivi per cui c'è comunque questo senso di disgrazia che sta per incombere come dire non sentite mai personaggi che voi amate al sicuro perché voi sapete se tramite il romanzo e dite adesso ne succederà un'altra però magari loro comunque riusciranno alla fine a combattere ad ottenere il bene a vincere non per tutti comunque non vale per tutti questa cosa è una caratteristica del romanzo che mi piace perché ahimè non è che va sempre bene per tutti comunque nella vita è bellissimo per me Ken Follett riesce a raccontarvi sia di misteri di giallo di storia d'amore di avventura ci sono degli intrighi di corte ci sono i re che si combattono ci sono le battaglie c'è questa costruzione di questa cattedrale che ovviamente è un po' il tredunion di tutto il romanzo e c'è veramente tutto qua dentro forse è per quello che lo rende un romanzo storico così straordinario è così denso e così pieno ci succedono tante cose ci sono tanti personaggi non è soltanto un romanzo storico fatto di battaglia ma ci sono anche le storie d'amore che comunque non sono lasciate da parte mi vengono raccontate molto bene gli intrighi di corte i personaggi reali è tutto è tutto talmente ricostruito bene che vi sembra di essere lì vi sembra di camminare tra i personaggi vi sembra di vedere effettivamente la cattedrale in costruzione e di essere comunque nell'Inghilterra dell'epoca è uno dei romanzi storici migliori anch'io che ho letto lo ammetto non so se è il mio romanzo storico preferito non riesco a decidermi sinceramente però è uno che almeno una volta nella vita va letto e anche se l'ho leggetto un paio di volte sicuramente non vi fa male io lo feci leggere alla sore perché forse lei non l'aveva ancora letto prima di vedere la miniserie che avevamo fatto qualche anno fa e lei si prese bene tantissimo mi ricordo che mi diceva quel pezzo di merda di William ah invece questo personaggio quanto mi piace ti fa sentire proprio così ti fa tifare spudoratamente per un personaggio ti fa odiare tantissimo un altro riesci comunque a che è in folle ti riesci ad escriverti talmente bene i personaggi che tu sei vicino a tutti loro in un modo o nell'altro sia che tu gli sia vicino per tirare lì il collo sia che tu gli sia vicino per abbracciarlo per consolarlo per dire vai cazzo spaccagli il culo e vedere che ce la fai poi c'è uno dei personaggi femminili migliori capito dalla letteratura non lo so mondiale che è aliena che è un personaggio che ho mai tantissimo e che mi piacque tantissimo è un romanzo che mi farò venire voglia di andare in Inghilterra allora in realtà questa cattedrale non esiste in questo paesino anche dove è ambientato il romanzo però che Follett si è ispirato effettivamente comunque ad alcuni fatti e alla costruzione di una cattedrale in particolare per cui in un certo senso lui un po' si inventa ma si inventa comunque unendo poi la storia la storia caduta veramente questi sono i cinque libri che io vi consiglio vi faccio vedere l'ultimo che ahimè in realtà non esiste per cui è un bonus cioè non esiste in realtà non si trova che era questo io ve lo consigliamolo tantissimo Nube di Passere perché è un romanzo bellissimo che è ambientato nel Giappone nel 1800 ed è un è un Giappone comunque dilaniato da tutte queste guerre fedali in cui c'è questo personaggio questo principe Genji Genji in cui arrivano i missionari cristiani comunque in Giappone per cui c'è un po' queste lotte di religione un po' queste lotte appunto feudali per cui tutti questi integri di corte anche qui ci sono comunque degli amori che poi si si sviluppano poi c'è anche un seguito di questo che io tra l'altro ho l'essi al mare il seguito è un romanzo stupendo che mi sarebbe piaciuto veramente dirvi leggetelo ahimè non si trova fuori catalogo però se per caso voi lo trovate Nube di Passere io ve lo consiglio perché è veramente bellissimo se siete poi appassionati di Giappone comunque ve lo consiglio è un romanzo che prende tantissimo e sarà che io non conosco tantissimo comunque il Giappone perché non sono una grandissima fan quando poi mi si racconta di cose legate alla storia legate al Giappone essendo cose che non conosco mi ha preso ancora di più proprio perché non conoscendole volevo conoscerle per cui è un romanzo veramente veramente molto bello e niente spero che questa idea di questi video vi piaccia io comunque proseguirò il prossimo se riesco vi parlo dei classici poi facciamo i romanzi gialli facciamo i romanzi horror se avete magari voi qualche sottogenere che vi interessa in particolare fatemelo sapere così eventualmente vi faccio anche quello sempre che siano un sottogenere che io leggo perché io leggo più o meno di tutto però capita che magari alcuni generi proprio io non li bazzico tipo che ne so voi sapete la letteratura americana io non sono una grandissima fan però ho un po' di libri di letteratura americana che effettivamente mi sono piaciuti volevo farvi anche magari romanzi un pochino più divertenti e via dicendo vediamo un po' per volta che cosa mi viene in mente vi saluto vi auguro buone letture buone vacanze per chi di voi va in ferie presto quest'anno maneggia un bacio ciao ciao